A tutti, a tutti i cari donatori di sangue, grazie per quello che fate ogni giorno, grazie per quello che donate ogni giorno, perché donate tanta speranza di vita alle persone. Il sangue è vita. Donarlo significa offrire una prospettiva, un'opportunità, una speranza a chi ha bisogno della trasfusione per continuare a respirare, a camminare, a vibrare, ad amare, in una parola, a esistere. Il sangue è una risorsa preziosa non solo in caso di disastri, incidenti, ma nella vita di tutti i giorni, per trapianti, per gli interventi chirurgici, per il primo soccorso, così come per le terapie oncologiche contro tumori e leucemie. Per questo FIDAS Vicenza è sempre in prima linea, anche con un calendario di iniziative per promuovere il dono del sangue. Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 maggio. Il 27 di maggio metti in moto il dono 2023, quindi la possibilità per gli appassionati delle moto di fare un bel giro all'insegna della promozione del dono del sangue per la provincia di Vicenza, toccando vari punti e quindi insomma tra poco andremo un po' a spoilerare quello che è il percorso e soprattutto quelle che sono le iniziative relative a questa giornata. E poi a giugno, a giugno si celebra come ogni anno il 14 di giugno la giornata mondiale del donatore di sangue, oltre che a illuminare di rosso gli edifici, i monumenti e tutto quello di più bello e importante che è la nostra meravigliosa provincia di Vicenza, andremo anche a fare una novità, a creare una novità, ovvero a premiare l'albo d'oro dei donatori di sangue FIDAS Vicenza, quindi coloro che hanno superato le 100 donazioni di sangue. Traguardi come l'alleanza nel segno della donazione, il gemellaggio tra FIDAS Vicenza e FIDAS Lecce, il nord e il sud, uniti per promuovere il valore inestimabile del dono del sangue. Un gemellaggio che è partito nell'83, quest'anno ricorre il quarantesimo, allora quest'anno saranno loro a salire e con loro e grazie a loro ci permetteranno e tutti quanti di andare a fare propaganda e sensibilizzazione al dono del sangue su tutto il territorio della provincia. L'appuntamento è per il 15, il 16 e il 17 settembre 2023, quando i volontari della FIDAS di Lecce verranno a Vicenza. Una tre giorni che ci permetterà di lavorare e di attivarci su ampio raggio attraverso delle iniziative, attraverso delle iniziative con i comuni, con i sindaci, con i nostri gruppi, con i gruppi genellati, con la cittadinanza per permettere di dare vita e di dare voce a questo importante gesto.